Centro sportivo Quanta Village, tra poco in campo per il campionato Over 40, Gironi Nord Calcio 7, Cili Calcio, FC Carpintero per Cili Calcio, abbiamo Franco Burini, invece per Carpintero Gabriele Sandrini, cominciamo da Franco, ciao Franco. Ciao. Allora, Cili Calcio 10 punti in classifica, terzo posto, buon inizio. Sì, stiamo facendo un buon campionato, stiamo ripetendo il campionato dell'anno scorso, siamo contenti, i risultati arrivano, qualche infortunio di troppo, però l'età è anche quella, per cui è normale che sia così. Ecco, invece Gabriele Sandrini, Carpintero, 3 punti, ecco, non tanto bene, questo inizio come mai? Ma, boh, avevamo aspettative superiori a quelle che, i risultati che in realtà stiamo ottenendo, boh, speravamo di fare molto di più, i risultati non vengono, boh, cerchiamo di divertirci comunque, di proseguire il nostro campionato, poi vediamo di riuscire a fare meglio in proseguo. Cioè, che avete un ballottieri sul mercato come il Milan? Beh, l'abbiamo già trovato, il problema è appunto, nel mercato di gennaio ripareremo. Voi invece, vi muovete sul mercato, visto che c'è la grande assenza di Fulvio Cerniani, ahimè, è una delle colonne di questa squadra, va sostituito con un top player adeguato. Sì, infatti, per questo che sto giocando io, perché per sostituire Fulvio ci vuole sicuramente un personaggio di pari livello. Bene, grazie mille, datevi la mano, siamo di Fair Play e buona partita a tutti. All'interno del progetto di Fulvio Cerniani Guardi, 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 guardi. Anche il Brasileo. Come? Sì, ho visto. Va bene, va bene, va bene, va bene, dai. Sette. Vai fuori, vai fuori. Max, la fermo, vieni qua. Bravo, bravo Andre, bravo, bravo così, va bene, va bene. Prendila, lascia, 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 tranquillo di così. Oh, 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 dai posso, vai. Dai Michi, dai Michi, non mettona. Vai, Rosso, tira. Aiuto. Grande, Frenz. Grande, Frenz, viva, grande. Grande, viva. Grande, viva. Guardiamolo sulla spalla, guardiamolo. Se non guardiamolo forte. Grande, Frenz, lo sapevo. Frenz, portalo via. Vedete via che sei ad osso? Sali, sali, su, su, andiamo su. No, no, l'ho adatto, l'ho adatto. Quindi vedi. Dai tranquillo, Peppe, lo vedi. Bravo, bravo. Bravo, Franco, così lo vedi. Robi. Robi. Bravi, bravi, bravi. Bravo, giù, bravo, giù. Grazie. E' a girarsi subito. Bravo, bravo. 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 Sì, davanti. Bravo, bravo. Bravo, a calcio. Buono. Va bene, va bene, Max. Va bene, Max. Va bene. Bravo, Andre. Bravo, va bene. Bravo. Vedi. Come è la scuola? Bravo. 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 Grazie 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 Grazie